Ok ragazzi, oggi parto con una bella diretta, dopo questi due giorni di festeggiamenti arriva il terzo, non ho perso il conto, e ho deciso, visto che l'anno scorso ero con le stampelle, ho deciso quest'anno di fare più feste e di fare un bel regalo. Quindi ora vi mostro questa casa, che secondo me se dovete fare un evento o un compleanno è bellissima, vi saluto tutti nel frattempo, ciao Todar, e ve la faccio vedere così vedete che figa, e se volete fare una festa sapete dove venire. Allora, questa è la sala, sono a Milano, non sono a Roma, ciao a tutti ragazzi, bello il capezzolo, lo so è bello perché è mio, poi si va giù, sempre se non cado e mi venite a raccogliere con un bel cucchiaino. La piscina con idromassaggio, cioè ragazzi, sfigate, no, l'affitto non è di 3.000 euro, 1.700 euro al giorno e non si può affittare a mese, è solo per eventi, quindi infatti ve la sto mostrando apposta. Qua, qua la connessione un po' debole, ciao a tutti ragazzi, bagnaturco, ancora questo capezzolo ragazzi, ma secondo voi, manco mi vedevo nel video, figurati se sapevo che... Si sale su, no, spento, mamma, le luci è un po' difficile, sembra di giocare a... Ciao ragazzi, ciao a tutti, vi leggo nel frattempo, sono anche già... Allora, qua è tutto di vetro, quindi vedi sotto, divano, una stanza, chiudiamo le finestre che io sono freddolosa anche perché io potrei cadere da qua giù, quindi, oddio, mamma, perché è tutto in play? Ok, auguri Cesare, tanti auguri, la casa si zona in zona, vicino Porta Garibaldi, poi le luci sono perse, qua c'è un'altra stanza e qua un altro bagno. Cioè ragazzi, non so descrivere le luci, che io l'ho fissa delle luci, non potete capire quanto è bella, quindi, io no, perché sono una nana, sono anche ingrassata. E niente, no, non è più il mio compleanno ragazzi, però appunto quest'anno ho deciso di festeggiare centomila volte, proprio perché questa è la cucina. E niente, quindi, beh, questa è la casa dei miei sogni, allora se potessi svegliarmi con una piscina, ragazzi, la mia vita sarebbe completamente differente. Grazie, grazie a tutti per i complimenti, ma è più figa la casa, in questo momento io sono oscena, oscena. Ciao Dani, sì, la mia stanza è quella giù, con dentro il bagno turco. E comunque, vabbè, poi domani quando metterò il video vi darò tutte le informazioni, anche se da gennaio sarà chiusa per lavori, però se avrete intenzione appunto di affittarla per eventi, io vi consiglio perché, secondo me, fare un compleanno qui con gli amici è la cosa più bella che si possa fare. Grazie Pam. E niente, quindi, vabbè, volevo solo condividere con voi questa cosa, perché sono un amante delle case, di queste cose così, hotel, quindi sono felice. No, non costa tanto, dai, per quello che è, vabbè, per un evento, una volta, un giorno si può fare. No, ragazzi, non mi spoglio nuda. Cioè, non siamo su Pornhub, Uporno, qualcavolo si chiamano. No, guarda, se si fosse impegnato un po' di più di io mi avrebbe fatto anche un po' più alta e un po' più intelligente. No, scherzo, scherzo. Ancora questo capezzolo, ragazzi, veramente, Troia sarà tua mamma, Benedetto Santoro, e scopa un po' di più che magari ti rilassi, coglione. Cioè, ragazzi, questa roba che pensate che potete fare l'hater, vi ricordo che noi siamo persone umane e che quindi abbiamo la capacità di rispondere sia ai complimenti e sia alle cose brutte. Quindi, non pensate che solo perché dite che siamo famosi, come dite voi, che non sono famosa, comunque perché non sono nessuno, allora dobbiamo prenderci gli insulti. No, non sono vergine, no, mi non la sento, non ci parlo più e non ho intenzione di parlarci. Carola, ti sto aspettando, un sorriso, eccolo. No, non mi piace i miei dentieri perché sto facendo una cura con l'Invisalign e non li ho perfetti, quindi mi fa schifo il mio sorriso. Sì, carola, meno tutti, ma tu dove cavolo sei? Vieni qua che mi sto aspettando, amici! Allora, tra un'ora vi aspetto tutti. Intanto io, la casa costa 700 euro al giorno in totale. Poi ho preso anche il cameriere, il cameriere viene a 100 euro. No, mi non l'ho vista e non la voglio vedere. No, che c'entrano le volgarità? Le volgarità le dicono loro e quindi io rispondo in maniera volgare perché una persona che mi dice stai zitta troia, non so dove ha imparato l'educazione, ma non è la stessa dell'educazione che parlo io. Quindi, ripeto, sono libera di rispondere ai complimenti, ma rispondo anche a chi mi offende e da donna con le palle rispondo in una certa maniera. Allora, i capelli sempre così perfetti perché ieri sono andata dal parrucchiere. Mi diciamo faccio tre pieghe a settimana perché io non ho voglia né tempo di farli perché mi piacciono perfettamente lisci. Ma oggi non sono belli, devo ripassare la piega ma non la... La Carola, che è sorella di Serena, ma chi è? Non la conosco. È in vendita? No, non è in vendita perché altrimenti l'avrei comprata. Non ora, ma in un altro periodo quando magari diventerò ricca. La prima esenerata a Ex on the Beach è gran sboccata, sì, capita anche quello. Siamo esseri umani. Ciao a tutti ragazzi. Grazie, buon Natale a te e buon pomeriggio, Walter. Grazie mille degli auguri, Mr. K. Ma beniamino, non sono perfetta, credimi, ho tantissimi difetti. Il primo è questo qui, questo buco che mi sono fatta perché a 13 anni mi è venuta la bellissima idea con una spilla da balia di bucarmi il labbro e poi invece con l'ago canula di farmi il piercing all'ombelico. Vi dico solo che ho preso tante botte da piccola, ma tante, tante, tante. Ah, la carola Manduca, no, non la vedo più. Diciamo che faccio pratica a vedermi anche da sola allo specchio. Grazie, Cristian Cottone, ma siamo stati un bel gruppo tutti quanti. Non c'è un migliore, un peggiore. Siamo tutti delle persone con diversi caratteri e quindi siamo tutti quanti, noi esseri umani, non noi di Ex on the Beach, tutti quanti, chi più chi meno, siamo tutti unici a modo nostro. Lecce, Lecce cosa? No, ragazzi, infatti vi volevo aggiornare che io il 25 dicembre, il 31 dicembre, sono in Calabria e all'HD Club. Quindi chi vuole venire a trovarmi venga pure. Già con Gianluca è finita, tanti saluti, molla Matteo. Poi la giornata tipo ad Ex on the Beach funzionava a una certa ora che noi non sapevamo perché non avevamo il telefono, non avevamo l'orologio, non avevamo niente. Ci svegliavano con la musica e facevamo colazione. Poi tramite il tablet venivamo a conoscenza di tutte le cose che avremmo fatto nel corso della giornata. Chi è stato di più è stato all'incirca sui 13-14 giorni, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo. Io sono stata dentro sei giorni ma tantissime cose le hanno tagliate, quindi vederle così è un conto, montate. Ma noi che le abbiamo vissute, sì, è stato veramente bello, intenso, facevamo un sacco di cose, quindi è bello, 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 bello. Poi in quel momento ti rendi conto che non hai più un mondo attorno e quindi non... no, io non so se hai visto il programma, io mi sono fidanzata a Ex on the Beach quindi anzi ero quella che non ci andava neanche con lui e lo prendevano in giro quelli del programma dicendo che anche oggi Gianluca non ha fatto niente. Ho chiuso con Gianluca perché finito il programma io volevo vivermi la mia avventura lì, in Thailandia e quindi ho deciso di farmi i fatti miei, comunque ero in un periodo che ero innamorata di una persona fuori da lì a Milano e comunque ero un po' confusa, non lo so, comunque sono così, mi vivo l'attimo e non avevo visto un futuro in quel momento perché quando siamo usciti da lì mi sono resa conto che una volta tornata in Italia sarebbe stato tutto diverso e quindi comunque mi sono vissuta il momento per come è venuto. Con Gianluca siamo rimasti amici, è una persona che stimo tanto, quanti soldi ho preso per partecipare al programma ci pagavano a giorno, come ho fatto ad andare a Ex on the Beach ho partecipato a un casting e che tra l'altro mi sono stata chiamata da loro perché qualcuno aveva riferito il mio nome e quindi niente, ho fatto il casting e mi hanno preso. sì, magari ci tornerò con Vanessa Napoli effettivamente non vengo quasi mai però potrei venire mi saluti, ciao molla 673 eh beh, aggiorno quanto? Ragazzi adesso volete sapere troppo non è che posso, ho un contratto, delle regole da seguire, tante cose non si possono dire mi hai visto un capezzolo? Ragazzi scusate mi avevano chiamato io sono a Milano in questo momento vi amo anche io ragazzi, sì venivamo pagati per star lì come tutti i lavori che si fanno in tv ovviamente si viene pagati poi il seguito è quello di comunque crearsi altre cose dopo e comunque beh, ovviamente voglio partecipare ad altri programmi ok, va bene Angelo, ci vediamo all'Hadi non lo riesco a dire sono a Milano in questa casa beh, passerò anche a Bologna cercherò di passare ovunque ragazzi comunque ho un progetto in corso che quando andrà in porto sicuramente avrò la possibilità di venire ovunque voi siate al Giuliette ritornerò dopo le feste perché appunto oggi ho questo compleanno poi vado in Calabria che la mia famiglia è in Calabria e in più cioè la mia famiglia è mio padre più che altro anche se non ci parlo e sono lì a lavoro a Capodanno sono sempre all'Hadi a lavorare come ballerina il tempo in Italia è una merda scusatemi il termine ma fa freddissimo io odio il freddo quindi mamma mia infatti tra poco mi butterò in quella piscina ciao Rosario Pino ciao P e Brenna Dani Barbieri ancora con questo commento del capezzolo tra poco il capezzolo diventerà una palla cioè ho capito e anche io sto pensando di trasferirmi perché sinceramente ho pensato magari a gennaio di andare a Tenerife sì soft porn potrebbero essere anche interamente porno quello che faccio io è un problema mio quello che voglio fare io nella mia vita è un problema mio non mi interessa del giudizio degli altri altrimenti non mi metterei in mostra siamo tutti liberi di fare quello che vogliamo nella nostra vita quindi quando aprirete la mente e ricordatevi che voi che state a commentare queste cose le cose che voi dite che sono quelle cose che giudicate sono le stesse cose che poi fate di nascosto quindi non facciamo i santi perché in questo mondo siamo più o meno tutti uguali solo che c'è chi vuole nasconderlo di più e chi invece lo mette in mostra io sono così come mi faccio vedere non mi interessa ok facciamo così io sono nudista ok io sono nudista ho deciso di mettere post soft porno nudi quale sarebbe il problema se io fossi nudista? cioè ragazzi dobbiamo iniziare a rispettare il mondo per quello che è ognuno ha le sue idee decide di essere in un modo chi in un altro quindi non capisco perché criticare cioè tutto quello che criticate è quello che poi fate perché quando sentite i padri di famiglia non far questo non far quello sono gli stessi che poi la sera togliendosi la cravatta vanno a fare le peggiori cose e non dico cosa quindi in questo mondo tutti quanti abbiamo delle perversioni tutti quanti abbiamo dei sogni nel cassetto tutti quanti abbiamo delle idee e chi si nasconde è solo un finto e viverà sempre male io non voglio nascondermi non voglio fare niente di questo voglio semplicemente essere me stesso e fare quello che mi rende felice quindi chi volesse entrare nel mio profilo per criticare o per darmi giudizi sappia che a me dei giudizi non me ne faccio proprio niente cioè appunto vivi e lascia vivere quindi chi è criticone nel mio profilo non ci può stare non ci deve stare e ciao Dani un bacione amore no ragazzi era uno scherzo quello del video non mi metto a stirare eh ragazzi a Porto Rico io a Porto Rico a Porto Rico ci voglio andare che c'è Bad Bunny sono innamorata persa 30 aprile ci sposiamo no ragazzi io mi sposo già l'anno prossimo con Juan Franzierra il mio amico di Riccanza abbiamo deciso che ci sposiamo hi Zeyat non lo so dire vi amo anch'io no sono a Milano sono a Milano sono a Milano a presto amore un bacio grande Dani ciao Mattia Zambon eh sì la carola eravamo amiche vivevo stavo sempre a casa sua quando eravamo piccole adesso non la sento più Herbalife cambia vita cosa devo fare la vita cambia siamo amiche ma non ci vediamo eh cicco Andrea va bene verrò a Porto Rico allora ci ti chiamerò mi farai sapere mi troverai un'abitazione dove stare grazie a Stato e niente vabbè quindi adesso ciao Daria un bacio grande che lavoro fai meglio dire quale lavoro non faccio allora facevo la personal trainer la faccio ancora ma solo online perché non ho il tempo di stare in un luogo fisso perché faccio 10.000 cose e poi sto lavorando a dei progetti che vorrei finire più breve e quindi non ho il tempo materiale fisico per andare in palestra poi lavoro come ballerina e ragazza immagine neanche come influencer quindi faccio un lavoro faccio alcune sponsorizzazioni cose così e poi tutto quello che mi passa per la testa che posso fare lo faccio quindi compro e rivendi tutte attività così adesso a gennaio stavo pensando di iniziare a studiare per fare i corsi e comunque vabbè voglio iniziare a diventare una ballerina professionista quindi voglio iniziare a studiare danza e quindi niente adesso voglio io non ho agency ragazzi sono freelance molti agenti mi contattano ma per ora voglio stare da sola i miei genitori dovrebbero essere fieri che sono intelligente perché bella non sono così bella secondo me però non rispondo a cose in base ai guadagni mi dispiace comunque appunto stavo dicendo che come faccio Veronica come faccio in realtà mi devi chiedere come non faccio perché ieri ero in depressione mi veniva da piangere ho chiamato il mio miglior amico gli ho detto bene adesso che è passato il mio compleanno che è comunque il mio obiettivo di questo mese era il compleanno che volevo passare un compleanno figo ieri ero depressa perché dicevo cioè mi sento spento ho bisogno di far cose nuove ho bisogno di studiare qualcosa di nuovo quindi ho deciso ho detto vabbè dai allora faccio il coaching online vado a studiare per fare i corsi e voglio diventare corsista sono così cambio ogni volta idea e voglio diventare ballerina quindi non cioè io non riesco a star ferma e questo è il punto che non è che come faccio è che io non riesco a star ferma io muoio se non faccio diecimila cose l'unica cosa no non farò mai un film porno l'unica cosa che a volte cioè anche se magari a volte non sono fisicamente in un posto lavorare io di giorno comunque faccio diecimila cose quindi incontro persone parlo dei miei progetti metto giù piani tutte queste cose che alla fine è in se stesso un lavoro perché comunque stare al telefono trovare i contatti fare le cose è comunque un lavoro e niente quindi sì sono iperattiva sono determinata e i miei progetti futuri appunto sarebbero che mi piacerebbe lavorare in tv ma allo stesso tempo mi piacerebbe essere un'imprenditrice come prima cosa vorrei essere un'imprenditrice quindi vorrei avere un sacco di attività grazie in questo momento sono un po' stanca ma e niente sì i messeri umani il sesso piace a tutti quindi non capisco grazie mille Veronica Lamarca devo dire che il fatto di essere cresciuta da sola senza famiglie con tanti sogni mi ha portato a diventare così quindi ho comunque fatto molti lavori sulla mia psicologia e sono una persona che si ferma sempre a criticarsi a pensare e quindi questo mi ha portato a essere come sono ora ogni giorno cerco di correggermi come faccio a non avere agenzie non voglio agenzie per ora non ne ho bisogno i lavori me li trovo da sola voglio essere l'agente di me stessa per ora quando avrò bisogno di un agente lo prenderò ho avuto delle richieste ma purtroppo io voglio un agente con cui si crea un certo tipo di rapporto e che sia una persona affidata che comunque vorrei che un domani se realizzassi tutti i miei sogni sia sempre con me quindi per ora non ho bisogno di agenzia o di un agente che scuola ho fatto ho fatto amministrazione finanza e marketing poi ho fatto non l'ho finita ho fatto la scuola no che scuola ho fatto la scuola di estetica sì tre anni e e poi basta ho fatto la scuola di fitness delle scienze motorie ho fatto il corso di istruttore di fitness il corso di di personal trainer e poi ho fatto l'issa cosa hanno detto i miei su ex on the beach mia mamma non l'ha visto per fortuna e anche perché mia mamma è molto all'antica già quando mi ha vista strisciare la notizia è impazzita mamma mia la scuola di estetica l'ho fatta a magenta alla seam e l'unico problema è che da piccolo ero troppo ribelle quindi litigavo sempre ho fatto un po' di macelli per fortuna sono cambiata anche se nel senso nel mio carattere si sa che io comunque se mi arrabbio non rispondo male comunque sono una che dice quello che pensa in faccia quindi dall'altra parte una persona dice che sono cattive che sto rispondendo male ma in realtà non è così cioè è in realtà che dico quello che penso e sono sincera anche Denise me lo ricordo ma sì il mio problema non è che non mi piace continuare come estetista il mio problema è che io non riesco a stare in un luogo cioè voglio che il mio lavoro voglio che siano i soldi a lavorare per me e non io a lavorare per i soldi perché io non riesco proprio a star fissa in un luogo tutto il giorno pensare di passare otto ore della mia giornata dentro un posto io potrei diventare matta mattissima quindi cioè comunque ciao Scilla mi ricordo anch'io di voi con chi ti è piaciuto di più in casa io sono stata solo con Gianluca cioè non so come dirlo in quale lingua quanti anni ho? 23 anni grazie Diego pelozzo sì è vero sulla simpatia lo posso dire che è vero perché ogni tanto anche quando sono a lavoro che vedo le altre ragazze immagini dico cioè ragazze siete belle quanto volete ma alla fine non spiccate perché siete morte cioè non non parlate con gli uomini nel senso non è che dovete parlare con gli uomini parlare con una persona non vuol dire essere troia ma sapete che ogni volta che parlate con qualcuno quante cose imparate c'è tutto quello che ho imparato l'ho imparata parlando con chiunque io sono in metro parlo col signore di 80 anni con la signora di 90 anni dove sono sono parlo con qualcuno perché parlare si impara sempre qualcosa tra dieci anni mi vedo con una famiglia con tre figli sposata con un bell'uomo spero e mi vedo ricca cioè voglio essere ricca perché comunque io arrivo da una famiglia comunque abbastanza povera sì e quindi non vorrei che i miei figli non gli manchi niente quindi tutto quello che faccio lo faccio per i miei figli perché vorrei che abbiano la vita che io ho sognato quindi voglio farla vivere a loro lavorare con Elettra è stato bellissimo e abbiamo un rapporto bellissimo e sono state molto lì in casa è stata molto simpatica una ragazza speciale cioè come la vedete è anche dal vero non sono fidanzata ciao Mattia Libe non è facile diventa ricca te lo dico perché credetemi che anche se magari molti di voi penseranno questo di me non è così anzi altrimenti però come tutte le cose uno deve capire cosa vuole fare questo mondo è fatto di inventiva quando inventi qualcosa fai qualcosa di diverso e fai soprattutto quello che ti piace e sicuramente diventi quello che vuoi essere diventi qualcuno poi per ognuno la felicità è in maniera diversa io la mia felicità sarà appunto che voglio vedermi realizzata in carriera che ho realizzato i miei sogni che avrò fatto tutto quello che desidero e quindi se io faccio quello che desidero vuol dire no non sono ricca ragazzi per niente anzi sono povera sto facendo la gavetta sto facendo la strada che spero che mi porterà al successo e che mi porterà ad essere quello che voglio quindi sono questo è anche se magari l'apparenza inganna ma quello che vedete sul mio profilo molti sono lavori che faccio quindi non sono cose che non che comunque non pago quindi quindi questo è però sì il mio sogno appunto di fare degli investimenti il fatto che non avendo una famiglia dietro è più difficile però ho delle valide idee trovando degli investitori appunto vorrei realizzare queste cose ma ricchi convinti non è che sono ricchi convinti che comunque sono sono fieri di loro stessi e credo che che chiunque sia fiero di se stesso faccia sia convinto ma non è questione di convinzione è questione di sapere il proprio potenziale una persona che è diventata ricca che o un cantante o un artista un attore beh ci sono quelli che nascono ricchi vanno dal papà gli dicono papà senti voglio far questo e il padre glielo fa fare poi ci sono quelli che diventano ricchi come che ne so cantanti che io conosco che prima erano poverissimi e poi sono diventati ricchissimi è chiaro e non è che diventi convinto però sai quanta merda l'hai mangiato sai cosa hai fatto allora non è che sono convinti si vivono quello che sognavano semplicemente noi rapper io amo la musica rap molti di loro li conosco e li ammiro ammiro tantissimo Sfera perché so la sua storia e quindi sono felice per lui sono fiera di lui e secondo me è una persona splendida quindi Gali è anche è un grande amico di un mio amico e e quindi anche lui è una è una persona che ha avuto tanti problemi comunque che ha avuto una vita difficile come molti di noi e che invece è diventato è diventato qualcuno è diventato ha stravolto la sua vita e ha realizzato il suo sogno quindi io sono fiera di queste persone che non smettono mai di andare avanti anche quando purtroppo c'è gente su questi social che cerca di buttarti giù dicendoti che fai schifo che la tua musica fa schifo e quello e quell'altro eppure lui non si è mai buttato giù è andato avanti i rapper non sanno neanche cantare è facile usare l'autotune ragazzi non sanno cantare l'autotune cioè non tutti il rapper è comunque più parlato quindi non è che hanno bisogno di fare gli acuti quindi sì sono calabrese sono nata e cresciuta in calabria fino agli undici anni cioè non è che devono farli acuti si chiama musica rap proprio perché è musica comunque parlata e quindi cosa c'è di male che usano dovete aprire un po' la testa ciao about jimmy dovete aprire un po' la testa perché no invece non è vero ma bisogna aprire la testa cioè ragazzi dovete aprire un po' la mente perché sì sono di castrovillare esatto dovete aprire la mente perché cioè cosa c'è di male se uno fa quello che vuole non sa cantare vuole cantare vuole cantare ha fatto una canzone è diventato famoso qual è il vostro problema siate felici per gli altri uno ha un sogno anche io vorrei cantare non so cantare cosa devo fare se domani decido di diventare cantante giuro su dio che prendo l'autotune e mi metto a cantare cioè e vallo a dire neri americani ma guarda che il rap è così quindi non è che fidati che se Sfera decidesse di andare in una scuola a imparare a cantare imparerebbe a cantare ciao Pietro22 comunque sì io la mente aperta molto molto aperta io non ho limiti mentali non ho limiti niente quello che penso lo faccio quello che dico lo faccio vai 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 jimmy fai fai questo fit inserisciti che io ancora non sono così socia non so come si fa fammi la richiesta jimmy vai ah ma non avevo visto perché io queste robe non le capisco ancora non sono così pratica con le dirette quann ti amo e comunque l'ho già detto a tutti che io e te ci sposeremo allora amore sono all'off si quann vieni qua muoviti muoviti che ti sto aspettando sta arrivando adesso il cameriere eccolo eccolo il nostro jimmy di exonevic quindi jimmy tu cosa pensi di rapper dici un po' io sono entrato adesso nella tua diretta sentivo che appunto uno sta parlando stai parlando di rapper che fanno al polo magari usano tutto un sa che cosa no esatto io penso che comunque c'è sempre anche una forma d'arte perché bisogna anche imparare fare il testo c'è un arrangiamento musicale c'è ci sono tante cose che ricompongono comunque anche una musica quindi anche se uno non è un fenomeno a cantare ma scrive bene ha un appunto ha un buon orecchio musicale funziona secondo me perché no cioè io appoggio questo che uno è che deve per forza fare gli acuti e lo è cantante poi magari quelli che sono bravissimi a cantare però scrivono o non si fanno però si comprono i testi si comprono i testi che ne so e non hanno un impatto non hanno neanche una faccia perché raga ci vuole anche quella esatto ci vuole anche un'immagine perché comunque sia se tu fai soprattutto se dovessi fare rap cioè secondo me io sarei sfigatissimo cioè perché io sono tipo faccia pulita così no e poi dico io nel ghetto con i miei fratelli tu proprio io lo posso fare invece io lo posso fare a me mi dico verrebbe no con l'occhiale così io spacco il culo a tutti quanti no dimmi tu puoi andare solo a fare il nerd mi dispiace puoi solo andare a fare il nerd che poi che poi uno mi vede così ma poi se mi metti musica black io sono nero dentro quindi poi spacco il culo a tanti neri vabbè a ballare eh a ballare ovviamente sì però a cantare lascio fare agli altri a chi sa fare a chi sa fare non io ad esempio ecco noi facciamo qualcos'altro beh però mi piacerebbe imparare ti piacerebbe sì ci sta ci sta come cosa scuola fai un elettro allora clara dice ma quanto sei bello jam jimmy con quegli occhiali si è mary pot ma no questi ce li ho gli occhiali di harry potter questi non sono tanto di harry ce li ho neri proprio puntatura nera di harry potter mamma love you so much and love kissing you questo non è per te sicuro direi da Mohammed a Mohammed no direi che è più per te ciao jam mi 64 0 55 comunque io anche tu devi salutarlo ha detto salutatevi potete sapere ah jam si chiama anche lui grande jam cioè il nome è bellissimo cioè ti saluto tutta cioè proprio è un bellissimo nome complimenti ma tu cosa fai questa sera? io lavoro a Bellinzona ok non puoi partecipare alla mia parte allora purtroppo purtroppo no lavoro ho lavorato anche ieri in Svizzera lavoro stasera lavoro domani lavoro domenica a Gilla che ragazzo che lavoratore che abbiamo qui ragazzi che lavoratore che mangia ciao Federica che mangia i complex sì stupida baby mangi i complex sì Jimmy ti hanno fatto una domanda Jimmy cosa ne pensi di Esmeralda Morichelli non so manco chi è perché non mi chiamate perché stiamo facendo una diretta con voi vacanze social non mi sembri tanto in vacanza se rompi i coglioni così la tocca sempre piano eh io lo ho detto lei la tocca piano no perché quando vogliono fare gli antipatici mi dà fastidio ecco oh faccio uno starchetto Jimmy ma nudo vestito ad Ancona allora avramandri a breve se Jimmy si sveglia un po questa settimana vi daremo delle notizie su fare questi su delle cose e quindi verremo ad Ancona e verremo ovunque verremo in tutta Italia stiamo venendo importante venire ragazzi a Luciana va bene Federica ti seguirò Luciana ti amo tantissimo Luciana facendo questi piacenti ciao Giuseppe Micunco ciao Pietro 22 quindi ragazzi immagino che vi sia piaciuto X on the beach eh presumo presumo vi sia piaciuto ma almeno noi eravamo divertenti dai però che palle anche il grande fratello quant'altro allora Michela Gorla la scritta del cappellino Next X nasce dal fatto che nel programma in tv Jimmy ha creato questo come si chiama questo slang questo slogan nato da più che altro perché mi sono entrate due X quindi da lì ho così buttata lì Next X perché è il prossimo X poi il gioco di quel programma era di chi sarà il prossimo X quindi se volete acquistarlo andate sul profilo di Jimmy e regalatelo a tutti i vostri X a tutti i vostri ragazzi lo sfoggiate così Clara Murlo lo guardava solo per te ciao Pietro 22 comunque Jimmy bello il cappello di Next X grazie Federica a me Jimmy invece mi faceva ridere in tutti i sensi non solo quando si cazzava un personaggio unico ragazzi ma lo squalo lo squalo tutto bene sta bene sto facendo delle serate se volete andarlo a trovare e e continuo a fare lo squalo in giro come sempre a sdrumare eh eh continuo a sdrumare ma se è il primo che sei fidanzato è tutto quindi ciao Nicol Nicol Savioli Savioli ciao comunque io adesso ti mando un bacione che devo andare agli allenamenti e poi ti mando un bacione saluta a tutti ciao a tutti buon Natale e buone feste e buone feste a voi e famiglia ciao la salute la salute è importante e il cappello la salute e il cappello poi ciao 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 ok siamo ritornati single allora vediamo qui due robe cosa sto facendo ma 36 minuti che sono in diretta ragazzi ma cosa sto facendo ma perché il cameriere non si muove ad arrivare quindi sono qui da sola dovevo andare a fare delle robe ma devo aspettare il cameriere quindi mentre aspetto il cameriere parlo con voi vi faccio vedere la mia pazzia in questo super lost e quando le Milano 04 puttana sarà tua sorella ok cioè non mi faccio sottare da te scusate ragazzi se sono aggressiva a volte ma mi dà fastidio a certe cose visualizza perché non vado a telefono no cioè visualizza no cosa ho fatto ragazzi ce la posso fare vediamo aspettate ragazzi come ti ammazzi ragazzi non vi ammazzate per me che non ne vale la pena e io allora qualcuno è così gentile da spiegarmi come si fa ad aggiungere una persona alla chat alla che voglio aggiungere qua ragazzi tra poco io qua di ricanza saremo qua in questa casa insieme a fare grazie per aver segnalato il commento a fare un po' di bordello perché non va il suo telefono Cristo scusate Andrea Cicos è un amico di mio nipote Francesco lì a Francesco di studiare fare il bravo come si fa partecipare sono i vice facendo dei casting e con un po' di pazzia non dovete essere persone normali dovete essere come me come me e niente non so sinceramente non so quando ci sono i casting quando ci saranno ve lo faccio sapere ragazzi io credo che a breve mi abbandonerò perché devo andare in bagno devo capire cosa fare della mia inutile vita no scherzo devo capire cosa fare tra quanto arriva il cameriere sono già le 5 ma come è possibile tutto ciò quindi adesso arriva il cameriere e quindi devo mettere a posto le bottiglie e il mangiare e poi devo sentire gli invitati e devo passare a pagare delle cose e a prendere a salutare un mio amico e poi ritorno qui nella casa quindi ci sentiamo dopo e stasera durante il party farò una diretta delle storie vi dirò a che ora farò la diretta quindi non perdetevi le storie anche perché vivrò con voi il mio party in diretta non perdetevelo e quindi ragazzi vi mando un bacio enorme e mi fa piacere che ci sono tutti gli amici del mio nipotino a vedere questa conversazione quindi salutate il mio nipote e un bacio grosso che io non lo vedo mai e un bacio a tutti voi e ci vediamo dopo con la prossima diretta qua con Juan quindi perché adesso non lo riesco ad aggiungere sto impazzendo ma mi spiegate come funziona questa diretta perché adesso prendo il telefono lo lancio così verso il muro e quindi ci vediamo dopo perché faccio la diretta con Juan e Sissi quindi a tra poco ragazzi e non perdetevi il nostro party un bacio vi amo grazie a tutti i nostri spiegati